E' noto dagli studi fatti sul meccanismo d'azione della tachipirina, è noto che la tachipirina come farmaco mi va a consumare un antiossidante fondamentale per il riparo del danno fatto dall'infezione, che è il glutatione. Ecco, quando si consuma molto glutatione il virus si replica molto meglio. E se il virus si replica molto meglio, si agevola la complicazione, la complicazione da Covid. Quindi questo ha una spiegazione scientifica nel suo meccanismo d'azione. Quindi andare ad applicare visire attesa tachipirina è decisamente qualcosa che è stato, a mio avviso, deciso proprio con lo scopo di far finire le persone in terapia intensiva. Grazie. 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 Grazie.